Il mio lavoro si chiama Tempo Critico, ho girato nella circoscrizione 5, quindi sostanzialmente Vallette, anche se in realtà quello che ho fatto io l'ho girato nelle torri, i ragazzi che sono queste case popolari che stanno davanti allo stadio della Juventus, i ragazzi che vivono lì si considerano un ambiente a parte, non dicono di essere delle vallette. Sostanzialmente io sono stato del tempo con loro e in un certo senso provo a raccontare un po' quelle che sono le loro vite, le loro quotidianità, quindi il mio lavoro tende alla realtà, tende al cinema del reale, anche se non è un vero e proprio documentario perché non ho una storia dall'inizio alla fine. Racconto le vite di questi ragazzi che sostanzialmente vivono la giornata, c'è Luca che è uno dei due protagonisti che taglia i capelli in casa, fa il barbiere, taglia i capelli ai suoi amici della zona e poi c'è Andrea, soprannominato Fazza, che è quello un po' più grande, che ha 26 anni e lui anche sta lì nella zona, fa il pugile, si allena, lavoricchia saltuariamente e comincia un po' a pensare a cosa fare della sua vita, quindi ha idea di mettere su famiglia, di trasferirsi da lì, eccetera. Insieme alle loro vite, all'ambientazione, alle torri, c'è la musica perché loro fanno rap e quindi c'è questo elemento in più che è un po' quello di raccordo in tutto il film, cioè io provo a raccontare loro e loro si raccontano con la musica, con il rap. E in un certo senso il film, sempre restando nel gergo dell'hip hop, il film è un po' un freestyle, è un po' come dire, è un flusso di coscienza libero perché ci sono delle scene che sono sì collegate da loro però non portano da nessuna parte queste scene e quindi questo è quello che ho fatto. Ho conosciuto i ragazzi che vivono alle torri in Corso Grosseto grazie a un mio amico che è un regista, anche lui, che tra l'altro ha un film al Torino Film Festival in selezione italiana DOC. Lui sta sviluppando un nuovo progetto, sempre lì alle torri, con i genitori, tra virgolette, di questi ragazzi. Sta cercando di sviluppare questo progetto che parli un po' del periodo tra i 70 e gli 80, quando quella zona era un po' roccaforte di certe situazioni, legata allo spaccio di droga, legata alla delinquenza e al rapporto con lo stadio e quindi tutto quello che quel micromondo generava. Lui ha conosciuto i ragazzi, aveva girato una clip promo per loro, per la loro musica e quando ho visto quella clip ho pensato che fosse interessante per me conoscerli, perché sono molto forti, ti rimangono in testa e quindi abbiamo organizzato un incontro, ci siamo conosciuti e io gli ho proposto di iniziare questo percorso, che in realtà all'inizio non voleva portare da nessuna parte, cioè quello che gli ho proposto io è mi piace quello che fate, mi piace la vostra storia, posso provare a raccontarla e quindi sono entrato nel loro mondo così. Poi in realtà adesso siamo anche legati, cioè siamo amici e questo è poi il salto che mi ha permesso di entrare nelle loro vite e di raccontare delle cose che riguardano le loro vite. Il mio tutor è stato Enrico Giovannone, che è un montatore torinese, che ha lavorato sia nella finzione sia nel documentario e questa cosa è stata molto importante per me e appunto come dicevo lui mi ha aiutato molto, mi ha seguito anche di più di quello che era necessario, di quello che era destinato al progetto. Il mio ruolo è stato decisivo nel senso che ho fatto tutto io, ma fin dal primo approccio con i ragazzi, perché secondo me quando si lavora con il reale la cosa più importante è quella di stabilire una relazione con i personaggi e quindi non ci sono state figure, non avevo una vera e propria troupe, la troupe ero io, quindi fin dall'inizio, in realtà fin dal teaser di tre minuti che ho presentato, che ho girato tutto interamente io, non avevo bisogno di qualcun altro. Per questa nuova versione, cioè per la versione un po' più estesa, mi ha aiutato un mio amico, Giacomo, che in questo momento è in Messico, che mi ha dato una mano a fare l'audio. Quindi in realtà eravamo solo due persone, anche perché le situazioni che andavamo a toccare non necessitavano di più elementi e anche per una questione fisica, cioè gli spazi erano piccoli e quindi abbiamo girato tutto in due persone. Un'altra persona che mi ha aiutato molto è stato il tutor del mio progetto, che è Enrico Giovannone, che è un montatore. Quindi mi è servito molto lavorare con lui perché quando uno gira, soprattutto queste cose qua, si va molto per situazioni, per momenti e quindi poi è difficile riuscire a fare il sunto del lavoro che si è fatto. Soprattutto perché uno tende a voler mettere per forza delle scene che magari ha fatto fatica a girare, quindi dice questa scena è stata impegnativa e quindi la dobbiamo utilizzare. Invece lavorando con lui, che non mi ha assistito durante le riprese, che ha visto tutto a mente fredda, è stato molto utile per me. Seguo il Torino Film Festival da molti anni, da cinque anni, credo che questo sia il mio quinto anno. All'inizio, quando ho iniziato l'università, ho cominciato a seguire il Torino Film Festival. Io studio al Dams, studio cinema, quindi l'ho sempre vista come una meta ambita, quella del Torino Film Festival. I primi anni l'ho frequentata molto come spettatore. Poi in realtà dal terzo anno ho partecipato con un film coprodotto, quindi non ero attivamente lì, però l'ho finanziato con la mia associazione. E quindi adesso, nel 2018, avere un film, avere un prodotto al Torino Film Festival mi fa piacere. Sono molto contento di questa cosa. Grazie. 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 Grazie.